Ancora un fine settimana da eroi per i bianconeri. È il giusto termine per definire chi dall'inizio del campionato non ha fallito mai una partita, mettendoci il cuore e l'impegno sempre e comunque. Superate le tre sconfitte consecutive, la Pepsi centra la quinta vittoria stagionale, beffando Roma nel finale di gara e raggiungendo così il gruppo di inseguitrici a quota 10 in classifica alle spalle di Siena. La cronaca testimonia la supremazia romana per gran parte della gara, interrotta da un righetti sensazionale che ha concesso alla Juve di rientrare in partita ed avere la meglio. La truppa di Sacripanti non comincia nel migliore dei modi, la trasferta al palatiziano rimediando un break iniziale di 8-0. Poi una buona difesa di Dornicamp, lo spostamento di Collins su Tucker e i primi canestri bianconeri rimarginano la ferita. Dedovic colpisce con freddezza e il primo parziale si chiude 20-15 in favore della Cea. Ancora Dedovic sembra incontenibile ma la Juve si tiene a galla con Marco Tusek positivo per tutta la gara. Quattro marcature in successione di Marco Mordente affossano i bianconeri che sprofondano sul meno 15, riemergendo grazie al solito Andre Smith. Sacripanti tiene in panchina Rose, impalpabile in attacco e fragile in difesa, poi lancia sul parcheggio Orciari concedendogli qualche minuto alla sua ultima gara casertana. A ridosso dell'intervallo Alex Rigetti entra in partita con due bombe importanti per dar segni di vita ma Roma continua a far bene in attacco con Mordente e Dedovic. La verve bianconera non è un fuoco di paglia. Collins e Tusek sparano dalla lunga distanza aggrappandosi al punteggio sul 52-48. Fase calda della contesa. Il mistile di Datome fa male. Madonna e Campericambia con la stessa moneta. Nell'ultima frazione, al minuto 32 della partita, Rigetti regala il primo vantaggio a caserta sul 60-61. Nel momento di maggior difficoltà, la Cea prova il nuovo allungo, chiudendo un parziale di 9-0 con i canestri di Slokard, Dedovic e Tucker. Tusek e Collins rilanciano i bianconeri con due bombe. Datome replica in bello stile. Il finale è spettacolare. Rigetti e Maresca firmano il nuovo sorpasso sul 38-77. Roma torna sopra, ma Rigetti è l'MVP commovente con 20 punti. Termina 82-89. La Juve compie un'altra impresa. La salvezza è più vicina.